Il reddito di cittadinanza è legge. Presenta la domanda dal 6 marzo sul sito del reddito di cittadinanza negli uffici postali o ai CAF. Puoi farlo online con l'identità digitale Speed e in ogni caso con l'ISEE aggiornato. Richiadili subito. Il beneficio economico varierà in base a diversi parametri. Se vivi da solo, ad esempio, potrai ricevere fino a 780 euro al mese, fino a 1280 euro se la tua famiglia è composta da due adulti e due figli, di cui uno maggiorenne. Per i requisiti vai sul sito. Reddito di cittadinanza. Una rivoluzione per il mondo del lavoro.